Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Allora, oggi sono qua, come vedete anche dal background, per parlare di libri perché voglio farvi vedere i miei ultimi acquisti, appunto, infatti, di libri. Questo mese mi sono sborsata il portafoglio, ho fatto davvero un super mega book haul tanto per darvi un'idea, il primo che ho preso, in lingua originale, perché l'altro ovviamente c'avevo già in italiano che oltretutto ho finito di leggere stamattina e lasciamo perdere perché è stato abbastanza un trauma e sto parlando di io prima di te, come vedete la versione in british, maybe for you, tutte in inglese e ho pagato 12 euro tipo il 65 perché ovviamente, come sapete, è importato, la storia della sterlina, eccetera. Comunque, voglio leggerlo anche in inglese, per quello che ho preso anche in inglese l'ho appena finito di leggere in italiano, come vi ho detto prima, è stato davvero un trauma e ho comprato due libri di cinque, di una serie di cinque, di una saga fantasy che avevo sentito parlare davvero ovunque, non solo da persone che conosco ma anche tipo da altri youtubers e booktubers e mi hanno davvero affascinato. Quindi ho detto, ok, allora me li prendo anch'io, voglio cominciare, avendo sentito appunto la trama un sacco di volte mi ispiravano tantissimo e ho deciso finalmente di comprarli. E sto parlando della saga Luxe e ho preso i primi due volumi, come vedete, cioè Obsidian e Onyx. Gli ho pagati entrambi 6 euro, 90, quindi con 14 euro me ne sono presa due e sono bellissimi, nel senso non li ho ancora letti, ma leggendo dalle trame davvero mi ispirano tantissimo questa storia di Katie e Damon, riferimenti puramente casuali, però Damon è scritto da Eamon, tipo, quindi è diverso a Vamparderis. Comunque mi ispirano davvero tantissimo e non vedo l'ora di leggerli. Quindi ho preso anche questi al giunti invece al confronto del primo che avevo comprato alla frittirelli. Poi andiamo avanti, ho trovato, questo era tipo una libreria a parte, non so neanche il nome, però è tipo un po' distante da casa mia, dicevo una ventina di minuti, e ho trovato la versione Pocket di uno dei libri che volevo leggere da tantissimo tempo. Ovvero sto parlando di My Dilemma Is You di Cristina Kiperi, spero si pronunci così. Come vedete è il primo, so che sono tre appunto, ma con calma prima leggerò il primo. Come vedete è la versione Pocket, infatti al posto di pagare tipo 13 euro l'ho pagato 6,90 anche questa. E mi è nata l'avvio perché ho detto meglio perché le versioni Pocket le preferisco e le leggo anche più velocemente. Ho comprato il secondo di un libro che vi avevo già fatto vedere in precedenza, ovvero Contratto Fatale. Come sapete io avevo il primo della serie, Contratto Indecente, ho finalmente comprato il secondo di Jennifer Prost. E anche questo ho pagato 5 euro in un'altra libreria strana che non ha nomi perché non sono le librerie quelle più famose. E non vedo l'ora di leggerlo, devo andare avanti, ovviamente ho un sacco di libri da leggere ma ce la farò prima o poi. Poi ho comprato anche il primo, come avete visto dalla recensione che ho fatto quel tempo fa, Calendar Girl è proprio il primo, come vedete, gennaio, febbraio e marzo, i primi tre mesi. Devo comprarne anche il secondo ma aspetto che si abbassi un po' di prezzo perché costa ancora tipo 16 euro. Questo invece l'ho pagato 12 euro e l'ho preso sempre su questa libreria indipendente di cui non ricordo il nome. Mi è piaciuto, diciamo, così e così. Non è stata questa grande cosa che mi aspettavo, spero che infatti il secondo e gli altri successivi saranno molto meglio. Però alla fine insomma l'ho preso e ho deciso di leggerlo, quindi aggiungiamo insomma anche questo sulla libreria qua dietro. Poi ne ho presi due delle edizioni della Newton Compton perché erano in super mega scondo, infatti ho pagato entrambi 3,20 euro l'uno. Il primo è questo che è la mia eccezione sei tu, lo cercavo davvero da una vita, specialmente da quando la mia simpaticissima e carissima sorella di nome Lily ne aveva fatto la recensione e mi aveva davvero tanto incuriosito. Quindi lo cercavo ovunque ma o costava 10 euro o non c'era. Quindi alla fine, appena l'ho visto ho detto no, io lo devo assolutamente comprare, cioè per 3,20 euro subito. E quindi l'ho preso, come vedete, è di Patricia Marra, dietro il numero uno in classifica. Non vedo l'ora di leggere anche questo perché mi ispirava davvero troppo. Sempre appunto della Newton Compton e sempre a 3,20 euro ho trovato anche questo bellissimo libro che volevo da davvero tanto tempo che è mi sono innamorata del mio amico di Kirstie Mosley e anche questo 3,20 euro che costava tipo 4,90 euro, insomma sui 5 euro. Non lo so, questo mi ispirava davvero tantissimo anche perché la stessa autrice ha scritto un libro che mi hanno regalato che era il ragazzo che entrò dalla finestra e si infilò nel mio letto. È la stessa autrice a cui mi è piaciuto molto quel libro, ho detto voglio assolutamente leggere anche questo. In più la trama mi incuriosiva tantissimo, cioè insomma l'avete capito che è dal titolo, questa ragazza che si innamora del migliore amico ma sono le storiche tipiche storie che piacciono a me perché è una cosa tipo scrivimi ancora, che io ho adorato, adorato sia libro che film. Quindi ho deciso assolutamente di comprarlo e voglio leggerlo il prima possibile. Poi andiamo avanti e passiamo a un libro di due, se non sbaglio, devono essere due libri. Il primo è questo qui che ho preso io che è So che ci sei, ecco come vedete c'è già anche il prezzo qui, è se ero 90. Questa qui è la versione pocket perché purtroppo ho notato che il secondo, questa tipo 18, ero 90, io sono rimasta tipo cosa? Quindi aspetterò un bel po' prima che esca la versione economica. E mi ispirava un sacco perché parla dell'amore nei tempi di Whatsapp, quindi praticamente quello che succede nei giorni nostri. E io amo queste storie tramite sms, tramite lettere, tramite chat, mi piacciono un sacco. Quindi ho deciso assolutamente che volevo comprarlo e leggerlo. In più per sé ero 90, la cosa era abbastanza, come dire, fattibile. Passiamo agli ultimi due. Il penultimo che vi mostro è un libro, diciamo, di una casa indipendente, se non sbaglio, è un mondo libri. Infatti pochissima gente ce l'ha, ma so che ha fatto un sacco di successo. Che è questo qui, Lover Mine di J.R. Ward. È un fantasy, come potete vederlo dalla copertina perché è un amore selvaggio, sicuramente. Non lo so, mi ispirava tantissimo e questo mi è venuto gratis con una tessera che ho fatto comprando un altro libro, tipo a metà prezzo. Quindi non è nemmeno pagato, altrimenti sarebbe costato 14,90, come al solito. Ecco anche la trama. Certe cose di destino che accadono. Il destino di John Matthews è messo e è stato scritto due volte. La prima come uomo in un mondo degradato ai margini, la seconda come vampiro. Ammesso nella ristretta cerchia della compraternita in virtù di un valore non comune e di un cicatrice che ha svelato la sua natura di guerrino. In bilico fra due mondi, plenamente lacerato, John ha superato la transizione e ha sposato la causa della razza. Ma ora un nuovo motivo per combattere. Trovare qualcuno che tiene più della sua stessa vita. Trovare X-X, sì, questo si chiama X-X, avete capito bene. La guerriera, la crudelle simpat che non ha bisogno di nessuno e che non vuole essere amata. Quando lei, dopo una missione contro i Lesser, scompare, John capisce che non può abbandonarla a se stessa. Così si lancia in una frenetica ricerca che lo conduce vicinissimo al male. Perché il sex è stato rapito dal figlio dell'Omega e la sua vita è presa un filo. Non lo so, mi piaceva tantissimo perché comunque parla di questo universo di vampiri che io amo i vampiri, nel senso come mondo fantasy insieme a Il Tantro, qui sono i miei preferiti. E mi ispirava davvero tantissimo e se no anche un libro che poca gente ha letto, non l'avevo mai sentito parlare e quindi mi ha incuriosito ancora di più. Non appena comunque l'avrò letto pensavo di fare la recensione, quindi ditemi anche qua sotto se la volete insieme agli altri. E passiamo all'ultimo libro che purtroppo ho ceduto alla tentazione e l'ho comprato anche io e sto parlando di After di Anna Todd, come vedete è il primo capitolo. Sono caduta anche nella trappola perché tutta la gente ne parlava, tutti facevano recensioni su YouTube, vedevo gente che ne parlava bene, gente che ne parlava male. Alla fine ho ceduto anch'io e ho detto ok, adesso lo leggo anch'io e voglio capire se davvero è una cosa positiva o una cosa negativa. Quindi non appena l'avrò letto voglio assolutamente recensirvelo, quindi preparatemi perché arriverà anche la recensione di questo. Questo invece costava appunto 15 euro, l'ho pagato con quella testa di cui vi parlavo prima, l'ho pagato solo 10 euro. Bene, il mio book haul è finito, spero che vi sia piaciuto. Scusate se è un po' lungo ma come vi ho detto ho fatto davvero talmente tante spese che lasciamo perdere. Sono un caso disperato. Comunque fatemi sapere qua sotto cosa avete comprato voi magari questo mese in foto di libri. Se volete le recensioni di cui vi parlavo e magari se avete letto uno di quelli che ho comprato io e magari mi potete dire com'è visto che devo ancora leggerli tutti questi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!